La chiesa parrocchiale della nostra velate, chiesa dedicata a Santo Stefano, è una chiesa antica che affascina molte persone proprio perché porta alla preghiera e al raccoglimento, ma nei giorni feriali celebriamo l'eucaristia con poche persone e quindi è necessario raccogliersi in un luogo più ristretto. Ecco quindi l'uso di questa modesta cappellina dedicata a Sant'Arialdo, difficile da individuare per chi non è di velate. Non molto tempo fa una cara persona che abita nella nostra velate incuriosito ha seguito un gruppo di anziane signore che entravano da una porta. Sono entrato in questa piccola aura che mi sembra un po' un'aura del nostro catechismo, del nostro oratorio e sono rimasto fulgurato dall'umiltà, dalla semplicità dell'uovo e quindi è nata questa idea di dire ma sì perché non fare qualcosa per gli altri, con gli altri. Tu mi hai detto qui va croce fisso, allora io mi sono precipitato subito in studio e mi sono messo a tagliarlo con i falegnami e poi in studio ho mollato tutti i lavori che avevo in essere in quei giorni e ho fatto due giorni e mezzo di lavoro senza mai... E che vorrei dire che la croce è pronta. Sono pronto. Come la croce è pronta? Sì, sono pronta. Ma non abbiamo anche cominciato a... e poi è stata un'idea geniale per questo fatto che abbiamo fatto la croce. Sì. Abbiamo fatto poi in altri discorsi che intorno a questa croce va fatto dell'altro, cioè dobbiamo in qualche modo costruire lo spazio intorno a questa croce. Senza però modificare questa idea, questa insomma memoria del catechismo e mi pare che ce l'abbiamo fatta e i nostri due architetti, Nicoletta e Paolo, sono stati molto grandi. Dal primo incontro che abbiamo fatto a Velate abbiamo subito capito che il nostro primo atteggiamento doveva essere quello di ascolto. E ci siamo subito resi conto che questo luogo doveva essere ascoltato, aveva qualcosa in sé di importante e abbiamo cominciato a guardare il luogo. Abbiamo capito che aveva qualcosa di particolare. Allora abbiamo cominciato ad ascoltare lo spazio e abbiamo cercato di captare l'essenza. E poi è entrata l'opera di Giorgio e l'opera di Giorgio ha veramente dato il primo segno al progetto, lo ha consolidato in quello che era già il nostro pensiero. Liberare il luogo da tutto ciò che era superfluo, quindi concentrarci sulla croce, concentrarsi sull'altare, concentrarsi in una direzione. Sant'Arialdo era un po' il martire della luce, la sua dottrina e quel luogo è il luogo della luce, una luce di nascita, meravigliosa. E durante la giornata se uno va lì a pregare gode della luce del giorno, la sa apprezzare, si impregna della luce. Su tutta la superficie dove ci sono posizionate le finestre entra una luce morbida dove il telo stesso ci fa percepire la presenza dell'esterno non negandolo ma ce lo filtra e quindi nello stesso tempo si crea un ambiente più raccolto e secondo il nostro parere forse adatto alla meditazione, al raccoglimento. L'uso del colore che praticamente troviamo nella parete frontale dove poi ho collocato la bellissima croce di Giorgio e nella nostra volta dà proprio un senso ascetico insomma di pensiero eccetera. L'obiettivo era proprio quello di trovare l'anima, proprio far venire fuori l'anima e l'anima nel suo essere etero, nel suo volare, nel suo stare al di sopra delle delle cose. Giorgio 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 Te adoro, oh dulcis ammor Te adoro, oh carne Gesù